Bella a tutti i forniteers, benvenuti e bentrovati su LeonTube in questo video andiamo a vedere l'incarico del capitolo 1 oggi fai scattare gli allarmi di auto diverse è abbastanza semplice, scendiamo in un punto dove ci sono le auto che tra l'altro qui non riusciamo a guidarle qui ad esempio ce ne sono tantissime, siamo qui in questo punto della mappa ci avviciniamo ad una di esse la colpiamo con il piccone, l'allarme è scattato proviamo il furgone, no ok il camion non va e l'incarico è completato, molto semplice avete visto che è successo e non ho mai perso a picconate ragazzi ok è tutto per questo video se vi è piaciuto vi è stato utile mi raccomando un bel mi piace iscrivetevi al canale ci vediamo presto con altri video ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti